Il metodo aiuta a comprendere i significati di una disarmonia posturale, dell'alterazione di un tessuto, di un'unghe spessita e come legarli alla perdita di serenità, agli stati di nervosismo, all'apatia. Il metodo insegna a decodificare il linguaggio di ogni segmento corporeo che, con la sua potente capacità espressiva, documenta i suoi bisogni in ogni momento. Diventare operatore del metodo Lucia Torricianci significa impossessarsi di una professionalità unica nel suo genere, perché è realmente utile, umanamente coinvolgente, emozionante nei risultati e dai risvolti etici. Significa imparare a scrivere sul corpo storie a lieto fine.